Dante, primo classificato Davide Vigna Adesso si è animata quell'ala di là E ogni tanto, bisogna mischiarli la prossima volta Eccoli qua sul palco con noi Per la foto di Rito E intanto andrei già a iniziare a chiamare i piloti della categoria Serie B Al terzo posto Renato Ugliana Secondo classificato Alessandro Biondo Primo classificato Ivan Germi Eccoli qua E andiamo A far preparare la Serie C Così intanto lo sanno Perché lo sanno Lo sanno, lo sanno tutto Sanno tutto Fanno i distratti ma lo sanno che tocca a loro Oh, abbiamo una mascottina e un mascottino Sì, ne abbiamo due Stiamo iniziando a crescere Allora, Serie C Andiamo con il terzo classificato Gabriele Donato Secondo classificato Elis Dotta Primo classificato Nicola Scapin Eccoli qua Eccoli qua anche loro sul podio Andiamo con la categoria Terzo classificato Francesco Canciano Secondo classificato Lucio Costantini Primo classificato Claudio Zamuner Scapin Vieni 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 Allora passiamo alla categoria B, terzo posto per Denis Bazzolo Secondo posto per Tiziano Pressant E al primo posto Alessandro Zamuner Ah non so cosa salta fuori dopo Ancora Categoria C mentre scattano le foto Terzo classificato Paolo Furlanis Al secondo posto Andrea Arboit Primo classificato Ugo Scapin Ah vedi come è partito deciso Secondo me era buona buona onora che l'aveva puntata E la coppa non mi ne fregava nulla Ma del bacio Tutta un'altra storia Categoria D2 Al terzo posto Andrea Rumor Secondo classificato Marco Libera E al primo posto Danilo Scaggiante Andrea stai calmo Ragazzi non vi regge ve lo dico Ce l'abbiamo un medico in sala Ce l'abbiamo un medico in sala Guarda che mi vede Andiamo alla categoria D4 D2 i premiati per questa categoria Al secondo posto Edoardo del Medico E al primo posto Fabio Foltran Andiamo veloci Andiamo veloci alla categoria E sono arrivati Sì sì che sono Stanno arrivando Eccoli qua Edoardo e Fabio ci siete? Guarda che non riusciamo a capire Adesso arriveranno Categoria D4 Allora Edoardo del Medico E il secondo classificato E Fabio Foltran E Fabio Foltran Il primo classificato Eccoli qua Ragazzi due sono State a farmacello E' un altro E' un altro E' un altro E' che si sono impicciati con i nomi E' un attimo che si sono impicciati con i nomi Fabio Foltran Guarda intanto prendi una Facciamo la foto Poi la ritroviamo No dai mettiti qua Così andiamo avanti Dai Facciamo la foto Bravi Categoria E Categoria E Al terzo posto Andrea Parlotti Al secondo posto Enrico De Martina Primo classificato Domenico Cavallaro Oh intanto che loro arrivano Vogliamo ricordare che sono in vendita i biglietti della lotteria Che ci sono un'infinità di premi bellissimi Certo Cioè la bicicletta Tu lo sai come si chiama quella La tielliera Come si chiama quella cosa lì Quale cosa Vien qua Vaporiera No la vaporiera Io dicevo Quelle sono le acqua santiere rubate al Vaticano No vabbè Quella cosa per fare quella pasta La crescita Come si chiama quella La vedi quella piastra Se non sai le cose stai zitta Sono anni che la vedo Non ho capito come funziona Come si chiama Eh Vieni qua La TGN Ah ma no Io pensavo Non mi volevi aiutare Pensavo Dalle mie parti non esiste Non esiste Quindi là Non ne ho neanche visti Quali sono le acqua santiere davvero E la Vaticano E però c'è un girocollo d'oro Quindi sbrigatevi a comprare i biglietti Oh Allora intanto passiamo Possiamo qui a aprire Quale categoria è? Ancora qua Sono la di qua Ragazzi Vi facciamo pagare il supplemento Andiamo Categoria E Categoria E Categoria Sport Ok Terzo classificato Andrea Scobella Uno Al secondo posto Alexandru Lazara Perché sei stato cattivo Al primo classificato Tiziano Scaramuzza E la terza sei tu Eccoli qua No Tiziano No non puoi Allora Allora intanto Categoria Lady Lady Al terzo posto Nella Bellini Seconda classificata Marika Martin E al primo posto Lisa Mazzan Ed eccole qua Portano avanti i colori Della categoria Eccole Tutte e tre Bravissime Categoria Lady 1 Fate la foto Per favore Ok Per la categoria Lady 1 Terza classificata Donatella Marchetti Al secondo posto Yvette Romano Prima classificata Anna Tosolini Categoria Rally Ci siamo? Ci siamo Ci siamo Quindi andiamo